Passano i giorni, passano le ore, passano le settimane e siamo giunti al venerdì sera e allora benediciamo il Signore per questa settimana che volge al termine, ecco inizia il weekend, molti forse riposeranno, partiranno per le vacanze, resteranno a casa, continueranno la normale vita. L'importante però sapete che cos'è? È che ogni cosa che noi facciamo dobbiamo sempre lasciarci muovere, accompagnare, guidare, sostenere dal Signore. Tutto in Lui abbia inizio nelle nostre cose è tutto in Lui il compimento e allora al termine di questo giorno diciamo ancora una volta, grazie Signore, ti lodo e ti benedico Signore, Dio della mia vita, della mia storia, della mia famiglia, voglio sempre vivere e camminare con te. Con questi sentimenti accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti e buon weekend.